Ciao a tutti amici di Every Eye, un salutone dal Green, squad builder su Ultimate Team World Cup, Brasile-Colombia, due squadre che si affronteranno ai quarti di finale, Brasile che ha battuto ai rigori il Cile con una super prestazione di Giulio Cesar, voi vedete in porta, io metto Jefferson, Jefferson mi piace per i riflessi, Giulio Cesar non ce l'ho ma se lo avete ve lo consiglio veramente, diciamo Brasile-Colombia, è Colombia che trascinata da un fantastico James Rodriguez si sta veramente presentando come una delle squadre candidate e possibile outsider nei mondiali, coppia difensiva abbiamo Perea e Thiago Silva, entrambi veloci, entrambi forti, diciamo Perea è un giocatore molto più fisico, mette Thiago Silva che è questo 87 di overall, lo sappiamo tutti che è un grandissimo difensore, i terzini sono entrambi colombiani, abbiamo Armero e Zuniga, velocissimi, 87 di velocità per Zuniga e 90 di velocità per Armero, i due centrocampisti centrali, invece in questo 4-2-3-1 sono entrambi i brasiliani sono Luiz Gustavo e Ramirez, due giocatori diversi, Ramirez molto più propenso all'azione offensiva e Luiz Gustavo invece veramente un muro davanti alla difesa. Centrocampista offensivo centrale Bernard dello Shakhtar Donetsk, per lui 5 stelle emossabilità, anche questo giocatore velocissimo, 91 di velocità, i due esterni abbiamo a destra l'international man of the match quadrado e a sinistra abbiamo l'altro international man of the match colombiano, James Rodriguez o James, come lo chiamano in Colombia, tanta tanta veramente qualità per questo giocatore con 90 di tiro, 94 di passaggio, 93 di dribbling ragazzi, perfetti per andare in profondità con la loro velocità e soprattutto servire questo signore qui, Jackson Martinez, che è un giocatore veramente fantastico. Una squadra molto ma molto veloce, tecnica per quanto riguarda il centrocampista offensivo centrale, un attaccante forte fisicamente, fortissimo di testa, quindi voi avete la possibilità con gli esterni di andare sia al tiro perché sia Rodriguez che Quadrado comunque hanno un buon tiro, ovviamente Rodriguez è quello più indicato per andare a centrare la porta ma soprattutto anche per crossare e Jackson Martinez di testa è uno che non perdona, signori. I due difensori centrali sono veloci, sono forti fisicamente, diciamo Perea ha questo 75 di testa ma è sinceramente un buonissimo giocatore. I due terzini sono veloci quindi supportano la fase offensiva egregiamente e i due cdc sono uno più difensivo e uno più offensivo, quindi una squadra abbastanza completa, omogenea, con due esterni veramente fortissimi vi farà fare un sacco veramente un sacco di gol ragazzi. Il portiere vi ho detto Jefferson è buonissimo soprattutto per i suoi riflessi, 87 di riflessi gli faranno fare delle parate magari sui tiri da ravvicinati incredibili, ovviamente se avete la versione upata di Giulio Cesar schieratelo perché ha dei valori assurdi, per un 83 di overall sono veramente assurdi, ma comunque già questa qui è una squadra non difficilissima da sbustare perché abbiamo solo due giocatori con un overall alto che sono Tiago Silva e James Rodriguez, per il resto sono tutti giocatori buoni, trovabilissimi, che vi permettono comunque di fare una rosa molto molto ben bilanciata e molto molto forte. Ragazzi questo è quanto, mi raccomando lasciate un mi piace, un bel commento, noi ci vediamo al prossimo video come sempre stay barba, stay qualità. Ciao belli!